Ehi, salve a tutti per ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zain Oggi vi mostrerò quanto dura effettivamente la batteria di iPhone con il nuovo iOS 12 Beta 1 Andiamolo a scoprire insieme Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai Allora ragazzi, eccoci qui Questo video lo sto facendo praticamente una settimana dopo il WWDC Questo perché ovviamente ho voluto testare almeno una settimana questo nuovo aggiornamento Che ripeto è iOS 12 Beta 1 Io ragazzi ribadisco che è una beta veramente fantastica Rispetto ovviamente alle altre beta mai uscite nella storia Apple Questa è quella con meno bug, meno problemi e con la maggior durata della batteria Vi do uno spoiler ovviamente Rispetto ad iOS 11.0, 11.1, 11.2 e addirittura anche 11.4 Questo nuovo aggiornamento, sempre ricordo in beta ragazzi e non ufficiale Ha una batteria che dura veramente tantissimo Ci tengo a precisare ragazzi che Apple ha aggiunto all'interno della sezione batteria Una nuova sezione completamente rinnovata Che adesso andremo a vedere insieme Piena di grafici che ovviamente non vi farò vedere in maniera interattiva Come si può vedere ovviamente dall'iPhone stesso Ma vi mostrerò ovviamente le parti principali Tra l'altro c'è una nuova funzione che calcola quanto tempo stiamo all'interno dello schermo E quanto utilizziamo iPhone all'interno proprio di iOS 12 E vedremo anche quella sezione Anche perché ci sono tantissimi dettagli che andremo ad analizzare Ma partiamo subito dal grafico ragazzi Ed infatti vi mostro questo screen Come possiamo vedere nelle ultime 24 ore ovviamente di quel giorno specifico in cui ho effettuato il test Abbiamo un calo della batteria che va dal 100% fino al 25% Siamo arrivati come potete vedere in alto a destra a 1% al di sotto del 20% Se non erro era intorno al 17-18% ma questo poco importa Come possiamo vedere abbiamo una nuova sezione completamente rinnovata Bene, ora abbiamo il tempo di utilizzo di livello batteria Il livello batteria è la sezione che riguarda il grafico del calo dal 100% fino a quando non scarichiamo completamente il nostro iPhone Il tempo di utilizzo invece è il tempo che utilizziamo in base ovviamente alla sezione della percentuale batteria che abbiamo scaricato Ad esempio come possiamo vedere 12pm era più o meno dal 75% al 50% Cioè un 25% scalato solamente in quell'arco di tempo Alle 12 a pranzo praticamente, alle ore del mezzogiorno C'è da precisare però ragazzi che questa durata batteria con questo grafico è leggermente confusa Cioè nel senso tu dovresti premere ogni singola sezione verde del grafico Sommare ovviamente tutti i valori che vengono fuori e lì avrai ovviamente il tuo dato della batteria Ebbene io ovviamente l'ho fatto ma Apple ci dice in primo piano 7 ore e 45 minuti Quindi il livello medio della batteria in questo caso Apple ci segnala che è di 7 ore e 45 minuti Dal 100% ovviamente fino a scaricare in questo caso al 18-20% che sia L'utilizzo schermo non attivo è stato di 14 minuti Quindi per 14 minuti a quanto pare dice il software non ho utilizzato il telefono L'ho sforzato veramente tanto ragazzi Cioè è stato veramente agonizzante provare i primi giorni iOS 12 Perché effettivamente una carica batteria così potente non l'avevo mai vista su una versione beta Ma andiamo ovviamente ad analizzare nel dettaglio la nuova sezione tempo consentito davanti allo schermo ragazzi Perché questa nuova sezione ci permette oltre a vedere quanto tempo sfruttiamo all'interno di iPhone E quindi magari limitarci in alcune cose Ci permette di vedere dalla mezzanotte fino a quando ovviamente l'iPhone non si scarica completamente il giorno dopo Quanto effettivamente abbiamo utilizzato il nostro smartphone E quindi cosa ho fatto? Ho messo in carica iPhone a mezzanotte, non l'ho più toccato, sono andato a dormire E il giorno dopo ho iniziato ovviamente l'utilizzo quotidiano del mio smartphone Ed ecco che la statistica adesso è molto più precisa e molto più realistica Vi ricordo che con iOS 11.4 nelle versioni sia ufficiali che in beta, nella beta 1.1 Quindi 11.4.1 Io riuscivo a fare una media di 4-5 ore di utilizzo Ebbene ragazzi come vi mostro infatti in questo screen Abbiamo una media di utilizzo di quasi 7 ore 6 ore e 42 minuti ragazzi Cioè io intanto ringrazio Apple per aver ascoltato le preghiere di tutte le persone Che volevano una durata batteria maggiorata Oltre ovviamente a un incremento delle prestazioni generali del sistema Perché ragazzi qui si parla nella prima ragazzi, prima versione beta di un nuovo totale software Quindi iOS 12 Quasi 7 ore di utilizzo Con il mio utilizzo intensissimo Quindi con un utilizzo normale di una persona normale che non riceve miliardi di notifiche al giorno Abbiamo un utilizzo superiore alle 7 ore Quindi 8, 9 ore, 10 ore Dipende ovviamente da quanto sfruttiamo il nostro iPhone Ma ovviamente ragazzi io ho tante statistiche Sempre per questo tempo consentito davanti allo schermo Per farvi vedere effettivamente in queste quasi 7 ore Cosa ho fatto Ed infatti ragazzi vi mostro quest'altro screen Dove abbiamo ovviamente un utilizzo di social network di 2 ore e 15 minuti Giochi 1 ora e 14 minuti Compreso ovviamente Clash Royale me lo segnala Instagram 1 ora e 6 minuti Whatsapp 56 minuti Safari 24 minuti Produttività 22 minuti E poi ovviamente non c'erano altre cose da mostrare nel dettaglio In quella giornata ho ricevuto come potete vedere da quest'altro screen 353 notifiche Tra cui troviamo Whatsapp con 127 notifiche ricevute Instagram 110 notifiche ricevute YouTube Studio 34 Facebook 24 Messaggi 13 Mail 9 Clash Royale 8 iApp Zain 7 Gestore delle pagine 6 Messenger 5 Eccetera 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 Ragazzi in totale 353 notifiche ricevute Ovviamente non sono poche C'è 356 notifiche Sono veramente tante in un giorno iPhone quindi mi è suonato 353 volte ragazzi Non è per niente poco Andiamo a vedere un altro dettaglio di questa statistica Che vi mostro in quest'altro screen Ovvero ho attivato 270 volte il mio schermo In pratica mi dice la statistica una volta ogni 3 minuti Quindi più o meno una volta ogni 3 minuti Prendevo in mano l'iPhone lo sbloccavo per leggere una notifica Oppure per cazzeggiare praticamente Cioè per fare qualcosa di produttivo per la statistica O comunque nell'uso mio quotidiano ragazzi C'è da precisare però una cosa Io effettivamente Torno infatti vi mostro nuovamente lo screen dell'utilizzo della batteria Perché vorrei gentilmente chiedere ad Apple una cosa ragazzi Cioè io notate Cioè il livello batteria ok Ci mostra il grafico dello scalare della batteria Ma in primo piano Cosa vuole dire? Cioè 7 ore e 45 minuti Da dove li hai strapolate Apple? Cioè vorrei capire Utilizzo con schermo non attivo 14 minuti In primo piano 7 ore e 45 minuti Cioè vorrei capire Apple Come hai strapolato tramite questa sezione questi valori? Cioè io diciamo trovo più preciso la sezione dello schermo nuovo Che ci permette di capire quanto abbiamo utilizzato lo smartphone Che questa nuova sezione batteria Credo che ci siano dei bug ovviamente Perché non è completa Non è letteralmente precisa Ci sono ancora delle imperfezioni Ovviamente si tratta di una prima beta Infatti l'ora media io la do a 7 ore ragazzi Perché il tempo di utilizzo me lo da 6 e 45 6 e 47 Qui mi da 7 ore e 45 C'è uno sfalsamento di un'ora Io faccio una media E bene o male l'utilizzo generale È di 7 ore Che è veramente Veramente ampio Rispetto ovviamente alle 4-5 ore che facevo con iOS 11.4 E anche tutte le altre versioni in beta ed ufficiali Ovviamente ragazzi farò un nuovo video Quando uscirà la beta 2 Sempre su quanta batteria iOS 12 ha consumato Sperando che Apple migliori questa sezione della batteria Perché si è aggiunto dei grafici Si adesso è molto completa Si però adesso c'è un problema Tappando le sezioni verdi Ci dice solamente quanto consumiamo Quanto tempo abbiamo impiegato Solamente in quella fascia oraria Un sommario totale di utilizzo e stand by Attualmente non è presente all'interno di questa schermata Cioè non possiamo estrapolare un utilizzo medio Uno stand by perché effettivamente non c'è Cioè dobbiamo sommare Prendere un foglio e scrivere Premendo sulla prima fascia del grafico verde Un'ora e cinquanta Scriviamo nel foglio un'ora e cinquanta Più passiamo alla seconda fascia del grafico E ci dice non so Cinquantasei minuti Sommiamo anche un'ora e cinquanta Più cinquantasei minuti E così via Ci dobbiamo sommare manualmente noi Per capire effettivamente quanto abbiamo consumato E quanto tempo abbiamo impiegato Ovviamente a scaricare completamente la batteria Dal cento per cento allo zero per cento Quindi io chiedo gentilmente ad Apple Ho già segnalato all'interno del pannello sviluppatori Chiedo gentilmente ad Apple Di fixare questa problematica Se si può chiamare così Perché effettivamente ancora non si è ben capito Il meccanismo che ci permette di capire Effettivamente quanta batteria abbiamo consumato Sia in utilizzo che in stand by Sì adesso è più completo Prima però ci dava solamente le cose che volevamo sapere Ovvero l'utilizzo e lo stand by Adesso non ci dà nessuna delle due cose Ci dà dei grafici molto complessi Che onestamente a mio modo di vedere le cose Sono in più Cioè io preferirei avere utilizzo di stand by Sì con un grafico eccetera eccetera Con come si chiama Il livello della batteria Perfetto Tempo di utilizzo anche Ma il tempo di utilizzo leggermente più completo Mi deve dare anche un utilizzo medio E anche lo stand by Cioè l'utilizzo effettivo dello smartphone E lo stand by Infatti per questo ragazzi Vi ho portato anche gli screen Della sezione dedicata A quanto sfruttiamo iPhone durante il giorno Perché volevo comparare le cose Bene o male sono più o meno le stesse Intorno alle sette ore Ma diciamo che sette ore è effettivamente la durata batteria Di questo iOS 12 su iPhone X tra l'altro Ma comunque ragazzi Io come al solito vi ringrazio Ovviamente per aver visto questo nuovo video Come al solito arriviamo a 100 mi piace Per il prossimo episodio Iscrivetevi e commentate Ci vediamo al prossimo appuntamento Sempre qui con Mirko Per AppleZain.net E ciao Grazie a AppleZain.net Puoi usufruire fino al 60% di sconto Sui prodotti Amazon Ed il link lo trovi qui sotto in descrizione O sotto al logo del nostro sito AppleZain.net Grazie a tutti